Qualcosa mi fa pensare che in questa stanza possa esserci qualcosa di interessante Anche perché non riesco ad entrare Ah, eh, sì, credo anche io Guardi maestro Sono un notevole esemplare di scrivania Cosa ci facciamo prima di giustiziarlo? Oh! No! Ciao! No, non so se Maestro ha deciso di usare tutte le sue cose Ma, ma no maestro ma cosa fa? Ma cosa fa? Perché se la prende con un povero palo della luce? Non so ma LOL Ti ha detto LOL Vuol dire che è qua vicino Ma c'era questo? Sì Ma cosa? Ma guarda sto... L'ho visto Dove? Arrivo Oh shit Dimmi che non sei qui, Quit Non sono lì Ok, grazie Allora vado da un'altra parte Mi fido di te Magari ho trovato il vostro posto Forse Può darsi L'ho il quit Dovresti saperlo Oh no Quit Cosa hai fatto? No, fammelo vedere Fammelo vedere Ho appena trovato il posto migliore di tutta la mappa No, no Il posto migliore Aspetta Guardiamo nelle macchine La gente si nasconde nelle macchine Quando è poco onesta No, comunque non sono in una macchina Pec Dov'è? Dov'è qui? Pec Spelotas Sono morto Come non si chiede? Certo che si chiede No, mi do l'indizio io a 36 quanti Ok Ok Ah, tu, ma tu Che cazzo sei? Vedi, io sono nascosto così bene Che neanche i props riescono a capire Sì, davvero Niente Cosa sto facendo? Ma che sento sparare? Eh Io sto provando Mi fa sbloccare la visuale Sono nascosto così bene Che neanche i props Signori R1 0 8 is back Non ne ho idea male Perché sei sparato? Hello bitches, hello 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 No, no, no No, no, no Lecce Si, si, si Si sta guadagnando Spada No, no, no Ha avuto un sign Quei freddo e incredibile Di te lo che sono di dire No Vi ha arreggitato un avvisciolo Faccio una partita alla Dairstor nel frattempo Spectre Tanto non ci becheranno mai Questo è il nostro mega spot Smettila di agitarti Rex E non muovere Cosa? Oh mio dio Granata doppia Baffa 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 Ma noi siamo da soli Cristo santo Tranquillo Non ci potranno mai trovare In ogni caso siamo dei vincitori In ogni caso siamo dei vincitori Cioè non ci becheranno mai Oh Sono appena arrivato Ma che Corri 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 Cazzo maestro Corra Non prendono d'altro Cazzo Perché sono dentro Rexen Non ne ho idea Ma quanto è cambiato? Oh mio dio Nooo Come faccio a cambiare? Aiuto Espy Ma quanti cazzo si è cambiato? Espy Perché sono dentro di te Espy? Espy dove sei? Mi sono buggato tantissimo Non lo so Non lo so Io sono su Whatsapp Ma stai tipo Con penetrando il muro E ti sanno Non è vero È il muro che sta Con penetrando Oh T'ho preso Ecco cos'è che mi bloccava Era Espy Sentiamo qui Ma come ma Cos'era quel cosa che fuggiva? C'è un barattolo che fugge C'è un barattolo che fuggiva Ho paura per la mia incolumità Nooo Quasi Nooo No no tranquillo Abbiamo le prove a filmare Che assurdo Oh Oh shit Oh shit Faccio 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 No No Cazzo Ho citato Ora Cazzo Adesso Sono Ready Let's play One Win **** If it4 You 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 You